ma in maniera assoluta. Ed arriva il momento dell'Italia in corsia numero 5 Thomas Cechon. Dall'alto al basso Majerski perché Proud non c'è. E poi c'è il nonno, attenzione. Il nonno Nicolas Santos, classe 1980. 41 anni, quasi 42, visto che siamo sul finire del mese di dicembre. Almeno per quello che riguarda l'anno solare. In corsia numero 3 Dylan Carter, poi controlleremo il tempo di Thomas Cechon che è quarto, 22,82 per Thomas, mentre Dylan Carter fa 22,36. Bene Carter, deciso, un bel delfino, l'abbiamo visto in condizione già nelle gare precedenti. E' molto facile il nonno Nicolas Santos. Ha notato praticamente al 20% del suo potenziale, soprattutto la prima vasca. Lui è iper esplosivo e oggi invece è rimasto lì nicchiando. Un Cechon invece è un po' sottotono questa mattina. D'altronde si accumulano gare e lui sta imparando a gestire un minimo il risultato.